L'Abruzzo è fra le otto regioni al top per il LEA, secondo il monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute, che considera i livelli essenziali di assistenza che raggiungono un punteggio superiore a 200. L'assessore regionale alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci afferma che si tratta di un riconoscimento al lavoro svolto dall'esecutivo, che viene rilevato anche dal governo guidato da Lega e Movimento 5 Stelle. Un grande lavoro di 5 anni. Io ho raccontato in questi 5 anni, anche un pochino vittima di tante strumentalizzazioni, che in realtà sui indicatori forniti dal Ministero della Salute l'Abruzzo incrementava la propria qualità dell'assistenza. Parliamo delle vaccinazioni, della prevenzione oncologica, parliamo dei tagli cesarei, dunque le donne gravide, parliamo dei femori, delle ambulanze e della rete di emergenza urgenza. Sulla base di questi indicatori viene erogato il Fondo Sanitario Nazionale e pertanto per la prima volta l'Abruzzo, partendo dal quart'ultimo posto, è arrivato tra le prime 8 regioni d'Italia che hanno superato quota 200 e che vengono considerate al top per quanto riguarda i cosiddetti livelli essenziali di assistenza, che sono esattamente questo tipo di prestazioni. Io penso che è stata fatta una scelta opportuna 5 anni fa. Quando siamo arrivati 5 anni fa si erogavano le risorse del Fondo Sanitario Nazionale, ma in realtà non si erogavano le prestazioni cosiddette dei livelli essenziali di assistenza. Un esempio su tutti. Per quanto riguarda la prevenzione oncologica del tumore al colon, soltanto 4 persone su 100 facevano la prevenzione di primo livello. Noi abbiamo enormemente aumentato questo valore, così come per quanto riguarda le fratture dei femori, passando dal 29% al 70%. L'assessore Paolucci è capolista nella lista del PD in provincia di Chieti, che sostiene la candidatura a presidente della regione alle prossime elezioni del 10 febbraio del vicepresidente uscente del CSM Giovanni Legnini. Sono otto i candidati, quattro uomini e quattro donne, come ha ricordato il segretario provinciale del partito Gianni Cordisco. Oltre all'assessore Paolucci ci sono il consigliere regionale uscente Antonio Inaurato, il vice sindaco di Francavilla al Mare Francesca Buttari, l'assessore comunale di Lanciano Davide Caporale, il consigliere comunale già vice sindaco di Ortona Nadia Di Sipio, l'assessore comunale di Vasto Lina Marchesani, il consigliere comunale di Chieti Alessandro Marzoli e l'avvocato di Orsonia Arabella Tenaglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti